buongiorno ragazzi è sempre lo stesso giorno degli altri due video sto montando rumbero che conoscete già è un incrocio lusitano spagnolo e se ricordate due mesi fa andava preso coi guanti cavallo abbastanza nervoso adesso è diventato un pecorino grande fiducia preferisce i giochini tipo passaggio piaffè passo spagnolo e jambet alle appoggiate lavoro su due piste quindi per ora insegniamo queste cose qua in cui è abbastanza ecco una jambet adesso la facciamo dall'altra parte a lui mi piacciono moltissimo questi giochini qua a lui mi piacciono a lui mi piacciono a lui mi piacciono a lui mi piacciono Il cavallo spava, tranquillo, il filetto, aspettate che vado un pochino qui in là. Non c'è niente in mano, cavallo di neanche quattro anni. Non c'è niente in mano. 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 I progressi sono enormi, cavallo tranquillo. Non c'è niente in mano. Non c'è niente in mano. Non c'è niente in mano.